Si preannuncia ricco e vario di spunti il cartellone degli spettacoli estivi. Oggi presentato il senso dei luoghi, rassegna regionale, di cultura che punta alla scoperta del territorio, della gastronomia e della ricchezza storica. Poi vi proporremo gli appuntamenti culturali di questa sera. I servizi. Abbiamo costruito un cartellone insieme ai comuni e alle province. Ci sono oltre 50 comuni coinvolti, tutte le province, 7 festival, incontri nei musei, teatri aperti per i laboratori con tutte le età, dai bambini agli anziani. La possibilità di incontrare la musica sinfonica di Santa Cecilia e delle grandi istituzioni romane come l'Orchestra di Roma e del Lazio. E la musica nuova, la musica multiculturale dell'Orchestra di Piazza Vittorio nella Piazza di Latina. Scrittori che si raccontano, musei aperti la sera, storie del nostro territorio, Accademia di Santa Cecilia, Fondazione Musica per Roma, Paolo Conte, Marco Paolini, Goran Bregovic, Marco Lodoli, Philip Glass e ben altro ancora. Un'offerta ricchissima che permette il recupero dell'identità del territorio, ha detto il presidente della regione Piero Marrazzo. Una sinergia culturale consolidata tra regione e provincia per Vincenzo Vita. Cultura, tipicità e ambiente devono produrre una capacità competitiva fortissima. e la cultura è un patrimonio non da considerare più in termini museali, ma come un investimento al concluso Marrazzo.